Siamo con il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per parlare dei cosiddetti grandi elettori che parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. Oggi pomeriggio in Consiglio si deciderà quali saranno i grandi elettori per l'Abruzzo. Intanto mi permetta di rivolgere a lei e a tutto il personale di Reteotto i miei auguri per queste festività e speriamo per un anno migliore del precedente e tramite voi e a tutti i telespettatori e gli abruzzesi che ci stanno seguendo. Tra i grandi elettori, ovvero coloro che eleggono il Presidente della Repubblica, ci sono anche i delegati delle regioni che sono per l'Abruzzo 3, per Prassi sono il Presidente della Giunta regionale Marsiglio, il Sottoscritto e un designato dalle opposizioni. Ovviamente questa è la Prassi che negli anni si è tenuta, poi l'Aula eleggerà questi elettori che poi si recheranno, secondo il calendario stilato dalla Presidenza della Camera, a eleggere in seduta plenaria il nuovo Presidente della Repubblica. Secondo indiscrezioni per l'opposizione si farebbe il nome di Sara Marcozzi? Sì, pare questa la scelta, ovviamente attenderò oggi che mi venga formalizzata in maniera appunto ufficiale. Quale sarà il calendario per l'elezione del Presidente della Repubblica? Beh, viene stilato dal Presidente della Camera, mi pare di aver compreso che prima dell'epifania il Presidente Figo darà indicazioni sulle prime date, posso immaginare che le prime votazioni avvengano dalla terza settimana di gennaio. Certo, siamo nel campo delle ipotesi, Draghi, Berlusconi, ovviamente non si possono fare previsioni, però insomma lei che ha il polso della situazione. Va bene, io le posso dire che la coalizione di centrodestra e i delegati che provengono dalle regioni governate al centrodestra hanno un impatto numerico non trascurabile, quindi comunque va trovata una intesa, diciamo, con i partiti dal centrodestra. Personalmente ritengo che Silvio Berlusconi sia un ottimo candidato alla Presidenza della Repubblica, però come le sa il centrodestra non ha una sufficienza elettorale e di solito, come giusto che sia, si cerca un'intesa più ampia sul Presidente della Repubblica. Il Presidente Draghi è sicuramente un ottimo candidato, non so se questo sia il caso di lasciare il timone di un governo che regge con una grande coalizione e che a mio avviso troverebbe difficoltà a rimanere unita. Nel caso in cui il Presidente Draghi venisse eletto Presidente della Repubblica, ritengo che ci siano delle elezioni politiche imminenti. Purtroppo anche nel Consiglio regionale si sono registrati dei casi di alcuni consiglieri positivi al Covid. Io le chiedo per le prossime sedute quale sarà la formula. Tampolini stiamo facendo, mi permetta di rivolgere un invito alla prudenza perché questa nuova variante è particolarmente contagiosa. Grazie ai vaccini, almeno al momento, l'impatto sulle strutture ospedaliere è ancora sostenibile, però invito tutti coloro i quali non hanno ancora effettuato neanche una dose di vaccino di farla. Ovviamente anche i consiglieri regionali, stando in ambiente promiscuo, erano a lavorare fino alla tarda giornata del 23. Alcuni colleghi si sono poi ritrovati positivi, questo ha fatto scattare tutta una serie di misure di contenimento. Ovviamente ci sarà una gestione mista per i consigli sulla finanziaria che approveremo certamente entro la fine dell'anno e che però prevederà sia la possibilità di essere in presenza che di essere in remoto.